Buongiorno, siamo a Torre dell'Orso, anzi Torre Saracena, oggi andiamo a fare un giro Alla scoperta di nuovi posti Buongiorno amici, oggi vi faccio vedere un altro posto fenomenale Ci siamo portati da ieri mattina a Castellaneta Marina in provincia di Taranto Qui siamo a Ponte Ciolo Questo è il panorama comunque We are in Puglia, venite a visitare la Puglia ragazzi, fino alla fine, fino allo stivale, alla punta Dove la gente si tuffa anche da qui, non so se vedete quel ragazzo Eccolo Si vuole tuffare questo pazzo scatenato da là Attenzione come lo chiamate, ciolo eh Non con la A Con la O Vi faccio vedere lo spettacolo Praticamente siamo alla punta dello stivale Vicino Santa Maria di Leuca Just like fishing in the ocean There'll always be so Ooh 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 You did me wrong But I've been to stormy weather I've been to stormy weather I've been to stormy Just like my love Stiamo percorrendo il sentiero che ci porta sopra questa riserva naturale alla punta dello stivale, praticamente Ovviamente Come un 2 È vivo? È vivo, è vivo tra l'altro una volta attuffato si risale vai Bomber facci vedere Bomber quindi a due passi proprio da Ponteciolo tra l'altro una volta attuffato si risale quella l'uomo ragno su per me fino ad arrivare su ovviamente questo ragazzo è del posto abitane quindi ora andrà a prendere posizione qualcuno scelta quello lì atta per il tuffo di fianco c'è un altro ragazzo questa è pronta a tuffarsi anche lì vediamo se riusciamo a fare una ripresa migliore andando da Poo tutto low cost eccola andiamo qui andiamo qui è vivo e 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 eccoci spostati a Santa Maria di Leuca alla fine dell'Italia alla punta puntissima del tapio alla fine dell'Italia e 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 quel tacco che le donne impazziscono e 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